Balniari contenti per le misure intraprese da Salvini in, diciamo così, che va incontro a quelle che sono le esigenze del settore. Ne parliamo con Peppe Lafranca che ci spiega meglio la questione. Sì, l'attuale ministro degli interni rappresentante della Lega ci sta dando una mano e sta seguendo proprio, particolarmente, i rinnovi delle concessioni, le mani anni marittime. La problematica della Borghestani, che è una direttiva europea che nega il tacito rinnovo e la proroga delle concessioni maniali nella scadenza del 2021. Quindi ha fatto un protocollo inteso col Movimento 5 Stelle nel quale non solo la nostra categoria, ma anche la categoria degli ambulanti, la categoria dei termalisti, delle concessioni termali, saranno salvaguardate dall'Italia e quindi chiederà all'Europa di far cambiare questa direttiva europea. Questa direttiva europea che cosa invece diceva? La direttiva europea diceva che non c'era il rinnovo tacito e si prevedeva la gara, però con un'opzione da parte del vecchio concessionario, quindi la gestione di questo. Quindi la problematica è notevole, però la problematica è anche perché una direttiva europea, che sconfessò direttamente dal suo creatore, Borghestani, che è un intervento alla Camera dei Deputati, ha detto chiaramente che nella categoria dei balneari non c'entra. Quindi è stato tutto un qui pro quo, è dovuto anche a alcuni gruppi parlamentari che avevano interesse da far portare le lobby delle agenzie ieri e le lobby tedesche in Italia, perché noi non vorremmo fare la fine della Grecia che con la crisi economica si sono comprati litorali, alberghi, aeroporti e quindi questa è la finalità dell'Europa, non credo, anche perché poi la Spagna e il Portogallo hanno rinnovato per 35 anni, la Slovenia pure, la Croazia pure e l'Olanda pure, e la Germania per i mercatini. Quindi la Merkel fa cattivo gioco per l'esterno e poi per l'interno pensa solo alle loro cose. Quindi questa situazione che sta facendo Salvini è da apprezzare, anche perché ci voleva un forte intervento da parte del governo. E finalmente questa è la dimostrazione che quando si hanno i cosiddetti attributi si va avanti.